E' stato collocato al primo posto con un finanziamento di 67 mila euro il progetto presentato dalla città di Fano che ha partecipato al bando regionale sui centri commerciali naturali. Ad essere premiate sono state soltanto sei idee lanciate da altrettanti comuni delle Marche. L'amministrazione con l'aiuto dell'Ufficio Europa ha presentato la proposta in sinergia con la Confesercenti e con Fanno al Centro la nuova cooperativa che riunisce 14 attività del centro storico per un impegno di spesa di 137 mila euro. Si è un esempio di collaborazione e di sossidiarietà sia verticale tra amministrazione che orizzontale con gli imprenditori e quindi credo che sia un esempio da seguire anche per altri progetti ancora più significativi che vorremmo fare sulla città di Fano. Sicuramente oggi intanto diamo un primo segnale di chi tra regione, comune e anche imprenditori credono nel centro storico. Riqualificazione, digitalizzare alcuni servizi e soprattutto fidelizzare i consumatori all'utilizzo del centro storico come vero centro commerciale naturale. È il luogo in cui non bisogna perdere l'abitudine ad andare oltre che per cenare o per andare in un bar ma anche per andare a trovare le botteghe. I mestieri, i negozi, gli acquisti. Noi dobbiamo fare in modo che il centro storico sia vivo e il rischio di desertificare il centro storico è molto forte e quindi sta a noi fare delle politiche che siano in grado di rivitalizzarlo. Dobbiamo fare in modo, ha proseguito Carloni, che tornino ad essere di modo alle frequentazioni e gli acquisti nel centro storico e soprattutto che ci sia la volontà da parte degli imprenditori di riaprire negozi. Il vicepresidente poi ha parlato di altri bandi relative all'accoglienza e all'ampliamento dei servizi tecnologici come la realtà virtuale, una delle nuove frontiere del turismo. La legge Borghi è una legge quadro che prevede la rivitalizzazione sia dal punto di vista commerciale, artigianale, anche dal punto di vista dei servizi digitali, della tecnologia informatica e quindi con un finanziamento molto importante, ma soprattutto anche l'interazione tra pubblico e privato per creare l'albergo diffuso, per creare ospitalità. Quindi metteremo a valore una serie di bandi che finanzieranno la rivitalizzazione dei nostri bellissimi borghi che purtroppo stanno vivendo una fase di declino e di abbandono. Intanto, grazie al bando presentato questa mattina, al Comune di Fanno saranno destinati 15.000 euro che verranno utilizzati per installare entro l'anno una nuova segnaletica promozionale all'interno del perimetro urbano. Il costo totale però sarà di circa 26.000 euro. Gli altri 52.000 verranno ripartiti tra le attività commerciali che complessivamente hanno speso 110.000 euro sia per eseguire ammodernamenti e ristrutturazioni interne o esterne, sia per lanciare una Fidelity Card che fidelizzerà i consumatori stimolandoli a ritornare nei punti vendita del centro storico. Riguarda appunto l'installazione di una segnaletica turistica nella città, tra l'altro prevista nel piano strategico di EIAR, che darà la possibilità di installare delle plance planimetriche all'ingresso della città e delle indicazioni per raggiungere i punti di interesse turistico più importanti. Insomma, questo progetto è stato finanziato nel suo contesto totale per il 50%. Questo significa che in questo periodo così delicato a questi imprenditori che hanno creduto comunque di investire ancora nella città, arriverà una parte dell'economia e quindi saranno finanziati da parte pubblica, così come sarà finanziato il nostro progetto. La carta a fedeltà invece sarà pronta entro due mesi. Il consumatore che acquisterà nelle attività che aderiscono al circuito otterrà dei punti che potrà riutilizzare nei vari negozi. Potrà andare a comprare un paio di scarpe o un maglione, potrà poi dopo andare a consumare i punti acquisiti, magari andando a fare massaggi, oppure andando in palestra, oppure andando a teatro, oppure semplicemente andando a comprare un altro prodotto. L'altro è un applicativo, un vero e proprio portale in cui tutte le attività che partecipano al centro commerciale naturale vanno alla propria vetrina, potranno dialogare con i propri clienti, potranno proporre offerte scontistiche e ci sarà una parte dedicata, e oggi non se ne può fare a meno, anche alla possibilità di acquistare.